Musica Hanno aiutato la popolazione e supportato l'amministrazione nei difficilissimi mesi dell'emergenza terremoto ad Amatrice. Sono i 406 dipendenti di Comune, Polizia Locale, MM, Protezione Civile che Milano ha premiato oggi con la benemerenza civica dell'Ambrogino d'Oro. Abbiamo cercato di dare continuità a quello che è stato il primo impatto sul territorio del primo scaglione di volontari della Polizia Locale. Assolutamente è stato pesante l'impegno ma è stato ben ripagato dai grazi e dagli sguardi degli abitanti di Amatrice. Lavorare in queste aree colpite da veramente tante persone ferite nelle famiglie è stata una cosa incredibile. Devo dire che è stata un'esperienza unica. Un anno di lavoro, spesso in condizioni difficili, fianco a fianco di chi aveva perso tutto. 406 dipendenti del Comune di Milano, donne e uomini della Protezione Civile, della Polizia Locale, DMM, tecnici, amministrativi, ingegneri, architetti. Oggi li hanno premiati per ringraziarli della fatica, dell'impegno, delle competenze, delle emozioni che hanno portato sul campo. Abbiamo lasciato tutti i nostri format che abbiamo adattato per il Comune di Amatrice, semplificandoli. E comunque siamo in continuo contatto con loro e quindi qualsiasi cosa di cui loro hanno bisogno noi siamo pronti a sistemarlo e ad adattarlo per le loro necessità. E ad Amatrice cosa resterà? Che insieme si può. Questo è importante, è un bel segnale per tutti i Comuni in difficoltà che ci sono i Comuni più grandi che sono pronti a dargli una mano. E' un bel segnale per tutti i Comuni in difficoltà che ci sono i Comuni.